Buongiorno a tutti ragazzi, sono il GDB e per chi non lo sapesse sono un ragazzo di 22 anni che studia economia all'università e oltre a questo ho anche una società di consulenza e contabilità per le aziende. Come ogni mese circa porto quelle che secondo me sono tre azioni da comprare nel mese successivo e ovviamente come ogni mese vi mostro quello che è l'andamento per ora dei consigli che ho fatto. Andiamo a ordinare per rendimento, quindi andiamo a vedere quali sono i consigli che sono andati meglio e quali peggio Paycom ha praticamente avuto un rendimento del 60% da quando ve l'ho consigliata che è tantissimo perché sono passati circa 3-4 mesi forse ma nemmeno, non sono sicuro, il 60% in 3 mesi è indecente quindi se l'aveste acquistata penso possa essersi listato utile. Un'altra azione che ha reso tantissimo è Westro, colta Huntington Bank Shorts che è una banca. Detto questo però abbiamo anche due azioni cinesi che sono Adibaba e Momo che purtroppo hanno reso negativamente dell'8% e dell'8%. Su Alibaba sono abbastanza sicuro che risalirà, anzi sto praticamente incrementando in questi giorni. Su Momo sono un po' più scettico però essendo che occupa solo praticamente meno dell'1% del mio portafoglio sto continuando ad holdarla e magari quando ha prezzi interessanti incremento anche. Non sono più purtroppo sicuro su questa azione qua ma vediamo, adesso la hold ero e vedremo. Detto questo ci tengo sempre a precisare che nel caso foste interessati a fare l'abbonamento non solo riceverete le tre azioni ovviamente come tutti mensilmente ma tutte le settimane io vi dirò quale azioni comprerò, vi invierò una mail in cui vi dirò le azioni appunto che comprerò durante la settimana perché per chi non la sapesse ma vi consiglio di vedere l'ultimo video caricato, quello dove parlo della mia strategia di investimento io investo ogni settimana e scelgo 9-10 azioni su cui investire i miei 100€ settimanali. Il perché lo faccio lo spiego nell'altro video. Detto questo andiamo a vedere quali sono le tre azioni che suggerisco io. Ragazzi la prima azione che vado a consigliarvi è, visto che purtroppo in questo momento qua ovvero il momento in cui i mercati sono ai massimi storici, trovare delle belle occasioni è molto ma molto molto difficile. E' per questo che mi sono cercato di buttare su qualche società poco capitalizzata. Ho trovato questa Hinmode che è una società israeliana che si trova nel settore farmaceutico ma anche diciamo in quello un po' più tecnologico all'interno del farmaceutico sempre. ed è una società israeliana che si occupa, come lo leggete qua, progetta, sviluppa e commercializza soluzioni estetiche, chirurgiche e di trattamento medico a base energetica. Ma spiegato molto più semplicemente, potete trovare su Instagram delle varie spiegazioni. Utilizzano degli apparecchi che permettono la cura dermatologica ma anche ad esempio in questo video qua fanno vedere una cura che fanno con un influencer alle sue ginocchia. Ma parliamo un po' di numeri perché a me piacciono i numeri. Gli ultimi tre anni, dicendo che questa società quasi quotata nel 2019, ne abbiamo i bilanci però purtroppo solo degli ultimi tre anni. È passata da dei ricavi di 53 milioni a 100 a 150 milioni, quindi un tasso di crescita del 193% negli ultimi tre anni. Gli utili sono aumentati del 532%, i flussi di cassa sono aumentati del 325% negli ultimi tre anni. Detto questo, io ho stimato una crescita per i prossimi 5 anni, che si attesta ad una media del 42% annua, che sono mie stime, e con stime del 42% di crescita annua e un PE al termine, quindi tra 5 anni di 31, che secondo me per una società che cresce così tanto ci può stare, mi viene un margine di sicurezza del 53%, considerate che io le società con un margine di sicurezza al di sotto del 20% non le considero nemmeno. Quindi, in mode, mi dà a prima occhiata, mi dà un margine di sicurezza del 53%. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che me l'analizzo molto più dettagliatamente, perché questa cosa qua che vedete è la prima cosa che faccio io. Un'altra cosa che mi impressiona tantissimo è la situazione dello stato patrimoniale, che è praticamente perfetta, perché come vedete qua, possiamo vedere come il cash e investimenti a breve sia di 193 milioni di dollari, mentre i debiti, come potete vedere, sono 672 mila, quelli a breve, e quelli a lungo termine sono 744 mila, quindi praticamente un milione. E fa impressione pensare che una società che sia così nuova abbia un debito così basso. Come vedete, anche Market Screener si aspetta una crescita esponenziale delle vendite, infatti nel 2020 stima 195 milioni di dollari di vendite, mentre nel 2021 già diventeranno 245, nel 2022 già 293, quindi una crescita esponenziale. Ovviamente questa crescita qua si rifletterà anche sui utili per azioni, che passeranno da 1,60 dell'anno scorso a 1,47 qua, un lieve calo, e poi nel 2021 1,93 è 2,18 nel 2022, quindi una crescita, come vi dicevo appunto, esponenziale. Ovviamente la situazione patrimoniale, come vi dicevo, è spettacolare. Già solo un ROE del 23% nel 2022 è assurdo. Considerate che, a mio avviso, un buon ROE è sopra il 15%. Per chi non sapesse cosa sia il ROE, cercatevelo su Google, è spiegato molto bene. Comunque è il return on equity, ovvero il ritorno sul patrimonio netto. Come sempre io vado anche a vedermi quali sono le previsioni del prezzo dell'azione fra un anno, ovvero le stime ad un anno, e Yow Finance stima un anno un prezzo di 53,33. Purtroppo il fatto che io faccia questi video qua una volta al mese vi fa perdere un po' di occasioni. Infatti ho fatto già il 4% ieri e in pre-market sta già facendo il 5%, quindi purtroppo il fatto di non essere abbonati vi fa perdere queste occasioni qua. Per quello vi dico che secondo me ne vale la pena, perché so che qualche abbonato ha anche acquistato nio, grazie a me, perché avevo fatto dei video in cui spiegavo il perché consigliavo di acquistarla, e ora ha il 300% in tasca, così... Quindi, boh, fate le vostre valutazioni. Detto questo, vi dico che non ho nessuna sfera di cristallo, quindi le valutazioni che faccio io sono totalmente soggettive e non garantiscono assolutamente delle performance positive. Detto questo, però, penso che la mia strategia di investimento, che è quella che vi ho mostrato nello scorso video, sia molto interessante. Andiamo a vedere anche la stima ad un anno target di Wallmine, che è in linea con quella di Yow Finance, ovvero un prezzo target a 53 dollari fra un anno. Detto questo, vi ricordo sempre che le analisi che faccio in questi video qua sono molto superficiali, perché devo fare tre analisi in 15-20 minuti, e quindi non posso farle dettagliate. Detto questo, andiamo a vedere la seconda azienda che vi voglio suggerire. La seconda azienda che voglio consigliarvi è Logitech, che l'ho già consigliata a Davide su Telegram, mi ha ringraziato, ma ci tengo a precisare che, a mio avviso, un PE di 22 su un'azienda che cresce a questi ritmi qua, secondo me è follia, ma sono mie valutazioni. Su questo non voglio assolutamente dire che è da acquistare per forza, o roba del genere, perché io non sono un consulente finanziario. Dico che io l'acquisto a questi prezzi qua, tutta la vita. Detto questo, andiamo a vedere qual è la crescita di Logitech. Allora, i ricavi sono cresciuti del 47% negli ultimi 5 anni, i costi sono cresciuti del 40%, quindi positivo rispetto ai ricavi, gli utili sono cresciti del 147% visto che sono aumentati i margini, i flussi di cassa sono aumentati del 186%, gli utili per azione del 269% visto che hanno fatto anche un po' di buyback, e come vi dicevo anche i net margini sono aumentati, sono passati dal 6,5% al 10,9%. Detto questo, andiamo a vedere un po' qual è la situazione del suo patrimoniale. Perfetta, perfetta. In automatico ho impotato che il mio file Excel, che tra l'altro potete tranquillamente richiedere nel momento in cui fate l'abbonamento, non mi ricordo se dal livello 2, mi pare il livello 2, ha in automatico anche il file di valutazione delle aziende annesso, quindi nel momento in cui fate l'abbonamento di livello 2, sbloccate questo file Excel qua. Un PEG dello 0,8% al 0,9% è perfetto perché è sotto l'1. Yahoo Finance, se trovate qua analisi, prossimi 5 anni stima una crescita annua del 24,61%, quindi tanta roba l'ho messa qua. Detto questo, andiamo a vedere qual è il margine di sicurezza che il mio file mi dà in automatico, ovvero un margine di sicurezza del 42,84%. Per chi non sapesse, la Logitech dà anche un dividendo dell'1%, che me lo prendo e me lo porto a casa. L'unica cosa è che è una società svizzera, quindi ci sta una doppia imposizione sul dividendo, e in svizzera è molto alta. Se non ricordo male, la ritenuta alla fonte del tipo del 30% può darsi, non sono sicuro, ma una roba del genere, quindi follia però. Per chi non lo sapesse però, Logitech è una società svizzera che si occupa di progettare, produrre e commercializzare periferiche per computer. Per chi non lo sapesse, la webcam dalla quale mi state vedendo è di Logitech. Poi ho già avuto mouse della Logitech, tastiere della Logitech, ci sono anche joystick, cuffie, tantissimi prodotti della Logitech. A me fanno molto impazzire. Questi sono tutti i prodotti della Logitech, e sto vedendo che tantissimi youtuber hanno iniziato a sponsorizzare la Logitech, e questo mi fa pensare che siano orientati al network marketing, e all'affiliate marketing. E questo per le vendite, penso, penso, poi non so, non ho la sfera di cristallo, possa incrementarle di molto. visto che per ora è una delle poche aziende che si sta buttando appunto in questo mondo qua. E secondo me l'affiliate marketing è il presente, ma anche il futuro a breve. Poi non si sa il futuro come sarà. Detto questo, andiamo a vedere qual è il prezzo ad un anno di Logitech, di Yahoo Finance, ovvero la stima di 100 dollari per azione fra un anno, mentre Walmart anche da un prezzo target a 100 dollari fra un anno, quindi un possibile guadagno del 13,8% in un anno. Quindi ve lo prendo e porto a casa, considerando che visto che la mia strategia ha come obiettivo un 10-12% all'anno, già Logitech potrebbe soddisfare appunto i miei requisiti, ed è per quello che ce l'ho in portafoglio. Io ovviamente ce l'ho a prezzo minore, perché prima di consigliarvele io le compro sempre, quindi solitamente a meno che non scendano dopo che le ho già acquistate, io ce l'ho sempre a prezzi un po' più bassi. Ed è per quello che io consiglio sempre, se avete un po' di capitale, di abbonarvi così avete le notizie un po' prima e sapete quando, se avete piacere di seguirmi, potete comprare prima le azioni. L'ultima azione che voglio consigliarvi vi sembrerà banale, ma è Microsoft. Andiamo a vedere un po' la mia analisi. Microsoft secondo me è un titolo che bisogna avere per forza in portafoglio, a mio avviso, poi sono mie valutazioni. Allora, negli ultimi 5 anni i ricavi sono aumentati costantemente, sono aumentati del 67% in 5 anni, i costi del 37% quindi molto bene, visto che hanno aumentato i margini di tanto, sono passati dal 23% di net margin al 37%. Ho sbagliato, è gross margin. Il gross margin è passato dal 23% al 37% quindi tantissimo, è molto buono il fatto che abbiano aumentato così tanto i margini. Altra cosa, la situazione patrimoniale di Minecraft è molto 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 buona, non è spettacolare ma è molto buona. Il PEG è buono, considerate che a me un rapporto PEG sotto il 2 mi piace. La crescita stimata da Yahoo Finance è del 14,53% annuo, mentre la mia è del circa 18% più o meno. è la stima totale di circa una stima di crescita del 19% annuo, il che mi porta ad avere un margine di sicurezza del 26% su Microsoft, che tra l'altro rilascia anche essa un dividendo di circa l'1%. Andiamo a vedere quali sono le stime ad un anno di Wallmine e Yahoo Finance, che danno una stima di 244 dollari per Microsoft, quindi un possibile profitto del 13%, e andiamo a vederci, qua hanno un price target a 239, quella dava 244, quindi un po' più positiva su Microsoft. Detto questo, io penso che un'azione come Microsoft si debba avere attualmente in portafoglio, perché? Perché andiamo a vederci le crescite future di Microsoft, vediamo che le vendite passano da 2 miliardi a 4 miliardi e poi rimarranno un po' costanti, però continueranno leggermente a crescere. Gli utili operazioni continueranno a crescere, ovviamente dovete considerare che quest'anno, l'anno successivo alla pandemia, ci sarà un boom appunto della tecnologia, quindi ci saranno gli utili operazioni che cresceranno tantissimo rispetto all'effettiva crescita dell'azienda. Questo però vuol dire che comunque si passerà in praticamente tre anni da un'utile operazione di 2,66 a un'utile di 3,21 che è molto buono, considerando anche che i dividendi operazioni continueranno a crescere. Questo perché? Perché Microsoft ha tanto capitale e penso che farà un po' di buyback e farà un po' di rilascio di dividendi e questo fa sempre piacere a noi. Detto questo, il video purtroppo non posso farlo troppo lungo, vi consiglio sempre, a mio avviso, la cosa migliore è fare l'abbonamento, anche solo quello dal livello 2, questo perché rimarrete sempre aggiornati sulle nuove aziende che acquisterò. Avrete anche la possibilità, visto che vi lascio il mio numero WhatsApp, di farmi qualsiasi domanda che vorrete e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, facendo un bel like, un commento e niente ragazzi, vi chiamo al prossimo video.